Sulla vicenda dei rincari sulle tariffe autostradali, il Partito Democratico non è pienamente soddisfatto sulle forme di sconto che sono state proposte e applicate dal Governo? Sì, dall'incontro che c'è stato con il Ministro Lupi da parte di AISCAT per la gestione autostradale, sono state applicate delle scontistiche che assolutamente non trovano in nostro favore. In quanto la platea degli aventi accesso a queste scontistiche è molto ristretta, c'è una soglia di percorrenza di 50 km che comunque escluderebbe una grande quantità di pendolari che usano frequentemente l'autostrada e poi questa occasione riteniamo sia importante per poter andare a rivedere l'impianto complessivo del sistema delle concessioni autostradali. I gestori chiedono un allungamento del tempo di concessione per far fronte alla scontistica che vogliono applicare da parte del Ministero. Noi riteniamo che vada rivista l'intera materia, dando un peso maggiore alla gestione da parte del pubblico delle riscossioni delle tariffe, riteniamo che le gestioni vadano messe a gara europea per avere maggior competizione e quindi maggiori vantaggi per la gestione delle infrastrutture. C'è una necessità urgente di manutenzione in alcuni tratti che oggi presentano dei problemi non indifferenti e questo credo sia la priorità che attraverso una mozione chiediamo al Presidente del Veneto di far presente al Ministero che ha la competenza di decisione in materia.